Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio una decklist che in realtà mi avevano chiesto un po' di tempo fa, era quasi pronta ma fortunatamente mi è stata ricordata nei commenti, io mi ero totalmente scordato di caricarla, anzi ero convinto di averlo già fatto. E la lista in questione è quella del mazzo assalto, mazzo assalto che ho deciso di giocare in maniera un po' più particolare sfruttando due, chiamiamoli, uno è un archetipo effettivamente e l'altro più una carta singola che sfrutta altre carte che sono appunto il reparto flanvel e il reparto synchro cat. Parlando del mazzo in sé faccio alcune premesse, diciamo che l'ho testato vario tempo fa quindi potenzialmente potrei fare anche altre modifiche alla lista in questione, ma anche è vero che almeno per come sono io che non sono quasi mai soddisfatto andrei a modificarlo all'infinito, di conseguenza ho deciso di portarvi quest'ultima versione. Parlando in generale del mazzo, il mazzo è un for fun, non è un T1 e diciamo si basa principalmente sul drago polvere di stella assalto che tralasciando le condizioni di evocazione può essere definita secondo me una delle carte più forti all'interno del formato, dato che praticamente può negare potenzialmente qualsiasi cosa, oltre ad essere un bel ciccione con 3000 d'attacco. Eccezionalmente ho voluto portare questa lista online come dicevo un po' perché mi ero dimenticato, ma soprattutto perché diciamo buildare ogni singolo mazzo comincia a diventare anche un pochettino costoso per il mio portafoglio visto che sto seguendo varie passioni. Di conseguenza ho deciso che porterò sia liste su The Link Book che mi sono anche più facili da registrare e altre anche in real, sia per il formato Edison, Tengu Plant, Hub. Quindi fate le dovute promesse direi di partire direttamente con la spiegazione della decklist, quindi tre bestie d'assalto che sono fortissime perché di base sono un 1.9 quindi sempre utile per togliere determinati bitoni anche come Shura per esempio, ma soprattutto scartandola ci permette di dare una modalità d'assalto dal mazzo alla mano. Poi gioco il reparto Flanwell, quindi tre Fire Dog e tre Flanwell Magician, ho anche caricato una lista dedicata allo zombie che sfrutta questo comparto che veramente forte secondo me è sottovalutata, che vi lascio qui in descrizione caso che siate interessati a controllare, vi piacciono appunto i zombie. Che sono fortissimi essendo di livello 4, motivo per cui ho anche deciso di giocare il Summoner Monk, non capisco il motivo per cui questa carta venga sottovalutata e bene o male oltre al Magician ovviamente il Summoner Monk ci andrà a calare il Syncro Cat che è un altro engine del mazzo, che a sua volta ci porterà i nostri Airbellum. Avrei voluto giocare anche i Riko e quantomeno anche un Namster, ma diciamo essendo un po' più veloce come lista e non giocando nemmeno i Monarchi ho dovuto diciamo farne a meno. Tuttavia gioco due Cyber Dragon che sono di livello 5, quindi utili per syncrarli con i livelli 3 come appunto gli Airbellum, ma anche i Psychic Commander il cui gesto diciamo un po' discutibile. Poi gioco il Sun Gun che l'ho aggiunto un po' all'ultimo, ma secondo me è una carta assolutamente fortissima per questo tipo di mazzo, ci permette di aggiungere target interessanti come il Monk stesso, ma soprattutto il Rescue Cat che è bello bello forte. Per concludere poi abbiamo un Gorz come Entrap, quindi come Parino, e due Dagripolvere di Stelle da Assalto. Questo potreste anche pensarlo di giocare a Monocopia, però con la sfiga che ho io vado sempre a pescarlo e mai a tenerlo nel mazzo. Certo, si potrebbe giocare anche la magia che lo rimette all'interno del mazzo, però ripeto, questo è anche un mazzo for fun, di base tale anche perché i rischi di Brick o Mano Sfigata sono elevati. Come dicevo prima, lo Stardust d'Assalto è fortissimo, può negare qualsiasi cosa di base e caso che venisse distrutto possiamo bersagliare un Dragripolvere di Stelle nel nostro cimitero ed evocarlo specialmente. Ne approfitto quindi per suggerirvi magari anche di provare il mazzo durante il torneo del 25 novembre, sabato 25 novembre, sul mio canale, quindi sul mio Discord che trovate qui sotto in descrizione, dove ci sta in palio una trappola botola che spedirò direttamente a casa vostra, l'ingresso è gratuito, non dovrete pagarne niente, dovrete semplicemente giocare e partecipare ovviamente. Un altro motivo per cui suggerisco anche di provare magari giocare lo stesso torneo questo mazzo è semplicemente perché di base la gente preferisce si dare contro i mazzi più forti del formato, e anche quelli più giocati che sono ovviamente Blackwing, Hero, Prog, Value Turbo, potenzialmente l'Iceworn, mentre contro mazzi del genere, che obiettivamente questo è anche un mistone, è difficile diciamo trovare proprio la side adatta contro questo mazzo, certo ci sono le classiche staple di Sibo che possono dar fastidio, ma questo è un vantaggio di giocare diciamo mazzi un po' di nicchie fuori dallo standard. Per le magie abbiamo 3 Rekindling, 2 Sunfusion che prima giocavo a 3 ma ho dovuto ridurre a 2 per questioni di slot, Emergency Teleport per calare il nostro Commander, Brain che è la carta più forte e più sbagliata del formato Edison secondo me, Mind Control, Evistor, Typhoon e un Avaris. Avrei voluto giocare anche i Book of Moon di main, potenzialmente di side, e dall'altra parte come dicevo prima un mazzo abbastanza veloce quindi abbiamo sempre quella carta abbastanza aggressiva con qualche riciclo come l'Avaris per l'appunto. Per le trappole questa potrebbe essere un po' più criticata come scelto, ho deciso di inserire soltanto 2 attivazioni modalità d'assalto per i seguenti motivi. Punto primo, giocarne 3 secondo me è troppo pesante e si rischia di avere una mano abbastanza briccosa. Inoltre abbiamo sempre la possibilità di addarcela visto che abbiamo 3 bestie d'assalto quindi il sercino ce l'abbiamo. Mentre giocarla a monocopia come fanno alcuni non condivido pienamente la scelta anche se in parte la capisco perché di base o si può beccare un Typhoon quindi praticamente ti si è ammazzato per cui giochi il mazzo, 2 ci sono altre carte come semplicemente una Gemini Spark di un Hero che appunto è un mazzo abbastanza sfammato, o un attacco Icaro del Black Queen che ha ancora più giocato che praticamente ti fanno fare GG a Dio. Di conseguenza questi sono i motivi perché ho giocato 2 copie non 1 e non 3. Poi continuando abbastanza standard una Call of the Haunted, Mirror Force, Silent Judgment, Starlight Road obbligatoria contro mazzi come Blackwing, il Tributo Torrenziale e infine la classica Dust Shoot. Mi starò ripetendo ma come vi accennavo già prima vorrei evitarlo di commentare perché appunto ci ho messo alcune carte che potenzialmente potrebbero essere giocate di main, insomma lo adattate un pochettino voi, bene o male così mi sono trovato anche abbastanza bene forse discutere un po' più sui bottomless da togliere, mentre le Prison probabilmente le lascerei lo stesso contro mazzi che sfruttano Cristia per esempio. Quindi direi di passare direttamente all'Exadec, abbiamo un Chimeratec ovviamente, un Dark Fight Dragon come livello 4, un Fusionist come livello 3, dei musicisti di parisi in italiano per livello 5. Mentre come sincro abbiamo il Catastor, un Arcanide che è veramente fortissimo, Armory Arm, Black Rose, Brionac, Colossal Fighter che ci permette anche di fare la combo con Armory Arm, Goyo Guardian, un Mistborn che potreste anche cambiare caso che non vi piaccia, due Stardust Dragon e un Acidamento Dominatore dei Pensieri che è veramente rotto. Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto, vi ricordo sempre di lasciare un mi piace, un commento e scrivervi al canale, aumenta lo share appunto del mio canale quindi aumenta visibilità ve ne sarei assolutamente grato e caso che non vi pensassi troppo di condividere il video con i vostri amici. Detto questo fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete in mente qualche altra decklist, avete qualche altra richiesta per Romato Edison, Tenguplant, Atto un pochettino l'ho messo in pausa, ma in ogni caso scrivetemi quello che volete e cercherò di carricarlo non appena possibile. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. See you next time. Wee!